Dovranno rispondere dei calunni all'uomo e la donna che si erano presentati qualche settimana fa al commissariato di polizia di Monteverchi e dire che avevano affermato di essere stati offesi, l'uomo anche picchiato senza motivo, da due dipendenti comunali a San Giovanni. Per giunta avevano dato anche una descrizione degli aggressori che a loro dire viaggiavano su un'auto del comune e che non avevano mai visto. All'improvviso ingiurie immotivate per la donna e alla richiesta di spiegazioni calci e pugni per il compagno. Come se non bastasse i due malcapitati si erano visti danneggiare la loro di auto. Presa la targa si erano rivolti agli agenti di pubblica sicurezza. Rapide indagini consentivano di risalire ai due probabili autori del gesto in base agli orari dei servizi comunali. Se non che il castello accusatorio è crollato miseramente anche perché la macchina del comune indicata per la data dell'aggressione non era utilizzabile perché da diversi giorni in officina. La storia era completamente falsa, frutto degli intenti persecutori, una sorta di stalking della signora verso uno dei due dipendenti dell'amministrazione san Giovannese. Da qui la doppia denuncia dei calugnatori. Altri controlli dei poliziotti a Montevarchi hanno portato invece a identificare diversi valdarnessi come consumatori di alcol e droga e a denunciare un 47enne del posto sorpreso al volante sotto gli effetti di robuste libagioni e di stupefacenti. Si era rifiutato anche di sottoporsi ai test previsti dalla legge, guidava senza patente e invitato l'indomani ad esibirla se l'è vista ritirare e si è beccato una multa perché era scaduta. Resistenza e lesioni a pubblico ufficiale infine sono i reati di cui dovrà rispondere un nigeriano di 43 anni che peraltro doveva scontare otto mesi di carcere. Alla fine è stato bloccato e si trova agli arresti domiciliari.